Al termine di un litigio ha coltellato il rivale lasciandolo in fin di vita e poi si è scagliato contro i carabinieri con una lama ancora stretta tra le mani e la maglietta sporca di sangue e quanto accaduto lo scorso 16 settembre tra le baracche del granghetto di Rignano nel territorio di San Severo. Durante l'ennesimo episodio di violenza un trentenne del Senegal è rimasto gravemente ferito alla schiena, al collo e alla nuca, mentre un quarantenne Magliano è stato fermato e arrestato con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda è stata ricostruita dai militari anche grazie alle dichiarazioni della compagna della vittima e di un terzo soggetto originario della Costa d'Avorio che aveva cercato di dividere i due ed era rimasto anche egli lievemente ferito durante la colluttazione. Dalle prime indagini è emerso che il responsabile dell'accoltellamento nelle ore precedenti aveva preso di mira la fidanzata della vittima con botte, insulti e minacce senza alcun apparente motivo, fatto che poi ha scatenato la violenta lite sfociata nel sangue. Il trentenne senegalese è al momento ricoverato in gravi condizioni nel reparto di chirurgia toracica del Policlinico riuniti di Foggia, mentre il quarantenne, già arrestato nel 2014 per aver accoltellato una donna, è stato rinchiuso in carcere.